Allora, argomenti da dibattere, suggerimenti, lealtà verso gli amici, se parlassimo del naso del professore, o anche del culo, idiota, propongo il mare e la sua magia, oddio numero tre, tu se non la butti sul romantico non sei contento, il puro e perfetto ordine del mondo, obiezioni? Ne ero certo, il mondo è come la meba che mangia le sue vittime, voi credete che la meba si preoccupi che alle sue vittime non piaccia di essere divorate? Ridicolo, vorrebbe dire che possiede il senso del giusto e dell'ingiusto, il senso di quello che gli adulti chiamano moralità, credete a me, una cosa simile non esiste, La moralità è solo una serie di formule inventate dagli adulti per proteggere se stessi, una serie di regole per i deboli